Dio mio fa che le tue opere ti lodino affinché ti amiamo e che noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere. Esse hanno inizio e fine nel tempo, sorgono e tramontano, progrediscono e decadono, hanno bellezza e difetti. Hanno dunque via via il loro mattino e la loro sera, ora nascosti, ora evidenti. Create da te dal nulla non sono della tua sostanza, non sono state create da qualche materia non tua e preesistente, ma da una materia concreata, cioè creata insieme ad esse, senza alcun intervallo di tempo. Tu hai dato una forma alla materia in forme. Una cosa è la materia del cielo e della terra e un'altra sono il cielo e la terra formati. La materia fu creata dal nulla assoluto, l'aspetto del mondo è stato ricavato dalla materia in forme. Eppure furono due cose create nello stesso momento. La forma seguì la materia senza alcun ritardo di tempo.